Ciao i più aferi, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo dell'età dell'oro di Cyril Pedrosa e Roxanne Morey, sperando di pronunciare bene il nome e cognome degli autori. Edita BAU Publishing, uscita di recente appunto per la BAU al prezzo di 27€, un'edizione enorme e spettacolare e anche alquanto pesante. Volume 1 di 2 di una storia assolutamente magnifica, quindi oltre all'edizione spettacolare, la trama lo è allo stesso modo. Se amate il Medioevo, le storie alla Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda, la Lancillotto e Ginevra, e tutto quello che comunque riguarda il Medioevo, legato anche un po' al Fantastico, questo fumetto, questa storia meravigliosa fa per voi. La protagonista in questo caso è una giovane principessa, Tilda, che dopo il suicidio del re deve succederli. Lei è pronta in realtà a diventare regina, più che altro perché vuole che vengano meno tutte quelle ingiustizie sociali che sono presenti nel regno, tutte quelle tasse troppo elevate, vuole che non ci sia più la carestia. Per un complotto che è sempre presente in ogni regno, viene cacciata dal suo stesso regno dal fratello più piccolo, che vuole diventare re al suo posto. Viene quindi cacciata, ma la seguiranno due cavalieri meravigliosi, coraggiosi, legati soprattutto all'onore, soprattutto uno dei due. Tancred, il più grande, il vero e proprio cavaliere legato all'onore, al servire i suoi sovrani, e quindi non va a tradire la figlia del suo sovrano. E Bertil, un ragazzo che è appunto un cavaliere, che sembra molto legato al Tilda, i due sembrano essere cresciuti insieme. I due quindi cercheranno aiuto in altre parti del regno, inizierà un vero e proprio viaggio in cui Tilda vuole riconquistare quello che è il regno che le spetta, il regno che lei sa di poter cambiare. Allo stesso tempo si scopriranno tantissime nuove parti del regno che Tilda non conosceva. Tilda sarà ferita e quindi queste comunità molto particolari presenti nel suo regno, in foreste che sembravano maledette, ma che in realtà appunto nascondono dei luoghi meravigliosi, la aiuteranno a capire qual è il suo destino. Oltre a curarla, aiuteranno appunto Tilda a capire che il suo destino è legato a qualcosa di molto più grande, a quella che è appunto l'età del loro. L'età del loro che non è altro che un libro, caduto ormai nel dimenticatoio quasi da tutti, in cui però si parla del passato, dell'età del loro, in cui si aveva la solidarietà, la compassione, l'aiutarsi a vicenda, in cui non c'era una differenza tra padroni e servitori, in cui non c'erano i sovrani, in cui si condivideva tutto, le cose belle e le cose brutte. E' un libro in realtà appunto, questa età del loro, un libro che deve essere in qualche modo ritrovato. Tilda insieme ai due cavalieri molto fedeli a lei andranno appunto a trovare questo tesoro, a cercare di trovare questo tesoro e in qualche modo a volerlo studiare per salvare il regno. Nel momento in cui però continua questa avventura di Tilda, la nostra protagonista che va, diciamo, contro quelli che sono gli eroi tradizionali, perché appunto l'eroina principessa che però vuole fare di più, non vuole essere la tipica principessa, vorrebbe combattere e sa di essere legata appunto a qualcosa di più grande, si perderà, si perderà nella sua visione delle cose, si perderà nel suo obiettivo e non vedrà più il mondo che le circonda come dovrebbe essere visto. Quindi è una protagonista che a un certo punto della trama in realtà si perde e i nostri protagonisti andranno a lottare non solo per il regno ma anche per loro stessi. E' una trama molto avvincente che mi è piaciuta tantissimo, ci sono tantissimi altri personaggi secondari che mi hanno fatto impazzire anche alcuni che non sono quello che sembrano, soprattutto quando li incontriamo e si viaggia tantissimo in luoghi misteriosi medievali che mi hanno lasciato senza parole, soprattutto grazie ai disegni meravigliosi. Per quanto riguarda ancora la trama, è una trama che ho trovato molto attuale per i temi affrontati, riguardanti soprattutto le ingiustizie sociali, ed è una trama che appunto ricorda quelle che sono le leggende medievali di una principessa che diventa un'eroina, smette di vestire i panni della principessina per essere l'eroina del suo popolo che però non riesce a farcela da sola, appunto si perderà in se stessa e dovrà però arrivare a quello che è il libro dell'età del loro in qualche modo. E si scoprirà poi cosa c'è veramente dietro l'intrigo di corte che l'hanno allontanata dal suo regno. La trama è veramente molto molto avvincente e ripeto, se amate i miei stessi generi, quindi i romanzi storici medievali con quel tocco di magia, è perfetto per voi. Ciò che mi ha però fatto innamorare di questo fumetto, di questa graphic novel, sono i disegni. I disegni sono spettacolari, adesso cerco di farvene vedere qualcuno senza farvi spoiler, ma basta farvi vedere alcune delle tavole, alcuni colori, alcuni disegni spettacolari per farvi capire la bellezza di questo fumetto. Ci sono delle tavole che mi lasciavano a bocca aperta e che mi facevano osservare il fumetto senza proferire parola, senza persa nell'una, semplicemente ammirando la bellezza delle ambientazioni, dei colori utilizzati e di tutta la meraviglia che è presente nel regno in cui ci troviamo e in quello che accade a Tilda. Io ho amato tutto di questa graphic novel, non solo la trama, ma penso che sia una delle graphic novel più belle a livello di tavole, di disegni, di colori utilizzati e del regno che ci viene presentato. Secondo me è assolutamente perfetta. Per essere una storia che riguarda il Medioevo è un pizzico di magia. Eroi, che sembrano tradizionali, in realtà poi non lo sono, è un destino molto più grande. Io l'ho amata tantissimo, gli ho dato 5 stelline ovviamente perché non potevo dare di meno. Ero sempre con gli occhi a cuoricino, spalancati nel vedere le tavole, i colori, i disegni, anche solo della natura. Era vedere gli alberi o anche l'acqua, il riflesso di un protagonista nell'acqua, mi lasciava senza fiato. Sono veramente dei disegni spettacolari e, cioè, anche solo i paesaggi sono qualcosa di sensazionale. Quindi, ovviamente io ve la consiglio. La Bao ormai pubblica solo cose meravigliose e anche questa rientra ormai fra le mie graphic novel preferite di sempre. Non vedo l'ora di scoprire come finirà il tutto perché ovviamente c'è un cliffhanger assurdo alla fine. Quindi già non vedo l'ora del secondo volume dell'età dell'oro e io non posso che consigliarvela. Ringrazio ovviamente ancora la Bao per questa copia meravigliosa. Sono tanto tanto contenta di averla potuta leggere e di potervene parlare. Vi lascerò il link per acquistarlo qui sotto nell'infobox, il link Amazon, in cui potete trovarla anche a un prezzo un po' inferiore. Fatemi sapere se volete leggerla, l'avete letta, se volete parlarne. Sono pronta nei commenti a rispondere a tutto quello che volete. E niente, qui sotto nell'infobox, oltre appunto ai link per acquistarla, tutti i link nei miei social. Spero che questa mia breve chiacchierata recensione vi sia piaciuta e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!